e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono mister mario e siamo tornati sulla quarta puntata di minecraft dove oggi ragazzi faremo la base per il portale del nether d'accordo possiamo iniziare forse se faccio abbastanza veloce riusciremo anche a fare un'altra cosa che mi piaceva molto ok qui questo posto mi piace tanto perché una specie di cava dove c'è l'apertura chiusa e ci sono due aperture di due uscite e qua dentro ci voglio fare il portale del nether quindi possiamo cominciare facciamo una base di 4 si può fare 4 per 4 quindi 1 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 ok ragazzi qui chiudiamo ovviamente però c'è un problema dobbiamo farlo da 5 per 5 quindi allarghiamo tutto di 1 ok ragazzi ora che abbiamo allargato facciamo con gli scalini così così almeno chi ci sale può riuscire a salirci senza saltare ok ci ho fatto questo così ok e ora di qua ok ragazzi questa era l'entrata poi avevo pensato ad una specie di coso così dopo ragazzi vi spiego e togliamo gli altri alcuni scalini cose vabbè togliamo alcuni scalini di sotto quindi togliamo tutti tranne questi due in fondo ragazzi chiedetemi se volete che off camera tolga questo davanti se lo volete fare una specie di entrata ehm e va bene guardate che bug guardate che bug di ombra che c'è vabbè possiamo andare avanti questo era il piccolo progetto poi dietro qui tolgo tutti questi ok metto queste con l'acciolino faccio ecco proprio quello che volevo ragazzi questo è questo è proprio l'effetto che volevo io si è spento perché meglio delle torce ragazzi meglio delle torce ok mettiamo delle torce qui vicino per tutto il ok ragazzi adesso mettiamo questo qui ok iniziamo il nostro progetto si ho scoperto che si può fare anche mini quindi uno due tre quattro cose no mi ha fatto uno screenshot niente a caso vabbè basta fare così due tre quattro e poi chiudiamo tutto ok ragazzi ora ci serve solo l'acciolino ed ecco qui il nostro portale per il nether ciò che ho provato nella prima puntata però non è servito ragazzi perché praticamente diciamo che è impossibile farlo quindi ragazzi questo è il nostro portalino per il nether ed entriamoci soltanto un attimo ragazzi soltanto un attimo ragazzi io ci farò una sfida su sta cosa riuscire a rimanere due giorni nel nether senza morire in modalità sopravvivenza e mai sto volando che figata ragazzi no è una figata sta cosa ragazzi veramente è una figata ragazzi non l'esploreremo oggi torno indietro perché ho paura di perdere il nostro portalino ed ecco qui magari ci facciamo anche una bella entrata non so da dove entra poi se entro qua dovrebbe farmi uscire è bloccato il gioco ragazzi ah no ecco proprio come volevo io quindi se entro qua dovrebbe buttarmi di qua quindi ragazzi allora dovrei fare tipo una cosa vabbè lo facciamo nelle prossime puntate adesso usciamo fuori questo è il nostro bel portalino del nether usciamo fuori torniamo nel nostro villaggio e vogliono fare una specie di vogliono fare una specie di cartello perché sono spariti i vetri ma che cosa sta succedendo oggi esattamente è sparito un pezzo di vetrata io non l'ho tolto e questo è il bello ci sono bug a caso seriamente ok ragazzi dicevo ok adesso facciamo nella prossima puntata faremo come dire come possiamo chiamarlo una specie faremo la cosa la chiesa gotica invece qua oggi faremo di qua qui guardate qua in bella vista faremo un cartello allora dobbiamo prendere il legno da bella gli assi di quercia poi dobbiamo prendere questi aspettate dobbiamo prendere i cosi di quarzo i cubi di quarzo eccoli poi ci servono questi poi ci servono questi poi ci servono questi ho preso un sacco di cose che non ci servono bene ci servono la rana rossa che questo l'argilla rossa scusate poi ci serve va bene ragazzi per adesso facciamoci bastare questi prendiamo le assi di legno di quercia ecco qua ecco qua e facciamo una specie di cosa così una specie di base però forse sono meglio i bastoni ragazzi sono meglio quindi prendiamo i bastoni al posto delle torce bastoni bastoni sono qua questi la staccionata di quercia e non ho sbagliato c'è una gallina impazzita che entra attraverso il muro benissimo ma perché cosa sta succedendo cosa sta succedendo così dovrebbe andare per tre va bene ok ragazzi così va benissimo prendiamo la strada di mattone ma perché ci sono gli animali impazziti oggi oggi il gioco è impazzito ragazzi non so perché mi è spawnato che ero morto e non avevo niente prima di iniziare il video off camera madonna ok così dovrebbe andare bene oggi mi è partito che non avevo niente davvero ragazzi non avevo più niente ok così dovrebbe andare veramente mi è partito che proprio non avevo più niente ragazzi veramente e quindi mi ha fatto rifare un sacco di cose non tutte queste mi era partito che non avevo più la piantagione e la piramide si era distrutta cioè era mezza distrutta veramente allora mettiamo quanto lo odio sto gioco quando fa così allora facciamo così tac facciamo così vi dicevo allora tac 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 allora prendiamo questi che sono i sono i levigati granito levicato ok ragazzi visto che abbiamo raggiunto le 700 visualizzazioni e vi dico anche che forse oggi dopo aver caricato minecraft forse perché è un lavoro lunghissimo caricherò anche lo speciale 700 visualizzazioni quindi ragazzi forse tenetevi tutti pronti va bene facciamo un 700 come si deve allora ragazzi direi di farlo il 7 direi di farlo così non credo proprio però dai proviamoci sembra più un punto di domanda quindi così non va bene proviamo così sembra una T ragazzi veramente non so come fare il 7 ah mi è venuta un'idea no ragazzi mi è venuta un'idea ragazzi mi è venuta un'idea ora si che sembra un 1 con la croce rovesciata però lasciamo stare andiamo avanti con lo 0 e mi sa che il cartello è un po' piccolo sono 70 ragazzi siamo in 70 no siamo molti di più i miei cuscini squash i miei palloncini squash funzionano sempre ok ragazzi dovremmo allargare un pochino dovremmo allargare un pochino quindi ragazzi ci servono 1 2 3 di spazio in più allora 1 è uno spazio cioè no c'è subito la lettera quindi qua c'è 1 3 ok ragazzi dovrebbe andare bene lì tanto non lo chiudiamo fa niente perché continua a distruggire la roba vabbè mettiamo questo e ho sbagliato perché ci vuole anche lo spazio quindi allunghiamo ancora ragazzi allunghiamo ancora e di questo passo non finiamo più però vabbè prendiamo questo ma non è che faccio proprio tanto quindi allunghiamo ancora di uno ragazzi di questo passo non finiremo mai yeeeh ahahahah allora ragazzi vabbè abbiamo allungato ancora di uno qua facciamo tutto spazio ok e adesso qui c'è spazio giusto giusto per lo zero ok ragazzi il 700 è pronto vorrei fare una specie di cornice così e poi fare così guardate ok così dovrebbe andare benissimo ragazzi così va benissimo mi piace tantissimo così eeeh poi ditemi come posso sistemarlo però mi piace dai mi piace sì 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 mi piace mi piace eh ragazzi ditemi nei commenti come potrei sistemarlo o consigliatemi cosa fare nelle prossime puntate perché sono un po' a corto di idee in questi ultimi giorni eh è d'accordo ragazzi il video sta diventando un po' lunghino quindi c'è una mucca che salta no scherzavo davvero a parte gli scherzi il video sta diventando un po' lunghino quindi non mi dilungo troppo e finisco qui la puntata eeeh comunque siamo riusciti a fare molte cose oggi abbiamo fatto sia questo cartello dei 700 iscritti che mi piace ben molto ecco eeeh eeeh anche di là il portale del nether vicino alla piramide eeeh e direi che mi piace molto mi piace molto dai nella prossima puntata faremo la chiesetta gotica tipica del scusate tipica del gioco va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto oooom noi ci noi si ragazzi oggi sono in pallone va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto eeeh commentate iscrivetevi e noi ci vediamo un prossimo video ciao ragazzi ciao